Buongiorno, sono Luca Sidiotti Pinto, responsabile dell'immobiliare. Siamo qui a Torino Nord, in via Conte di Roccavione numero 24, a vedere questo appartamento. Vendiamo qui un bilocale ristrutturato che adesso vi porta a vedere. Venite con me. Questo bell'atrio d'ingresso ci accompagna alle scale e all'ascensore. Saliamo su a vedere l'appartamento. Il nostro alloggio è così composto, ha questa bella zona giorno molto ampia, che prevede il balcone da questa parte. Si allunga su tutta la superficie della proprietà e quindi va a coprire anche il bagno e la camera da letto che adesso vi farò vedere. Il soggiorno è sicuramente molto luminoso, bello spazioso e risulta essere living. Dal disimpegno, attraverso questa porta a soffietto, si passa nel bagno che prevede la doccia. È un bagno che è stato rivisto, come tutto il resto della casa, recentemente. Quindi si presenta molto bene. La nostra camera da letto affaccia sullo stesso balcone dove vi ho portato prima. È una camera da letto molto grande, molto spaziosa. Lì c'è lo spazio per l'armadio anche a quattro stagioni. Tutti gli infissi, come vi dicevo, sono stati rifatti, sia interni che esterni. La cosa importante è che in questo appartamento noi paghiamo quasi 1.100 euro all'anno, comprensivo di spese condominiali e riscaldamento. Quindi davvero una cifra irrisoria. Le condizioni. Noi la richiesta qui per comprare l'appartamento richiediamo 69.000 euro. È una cifra particolarmente abbordabile, pensando che se uno ha davanti a sé un piccolo anticipo riusciamo anche a far avere in mutuo fino al 90%. Chiamateci.